Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Una splendida notizia è arrivata da Rosanna Banfi, e naturalmente anche suo padre Lino Banfi è esploso di gioia quando l'ha saputo. Rosanna ha voluto condividere la sua felicità personale con Monica Setta durante il programma Storie di donne al bivio, in cui è stata ospite. Ha parlato di sua figlia Virginia, che ha dovuto affrontare una sfida inaspettata, la menopausa precoce a soli 27 anni. Era ottobre 2020, e la figlia aveva smesso di prendere la pillola, ma i mesi passavano e il ciclo mestruale non tornava. All'inizio pensava fosse normale, dato che l'aveva presa per più di dieci anni. Magari era lo stress per i preparativi delle nozze. Passato un anno, ha fatto controlli più approfonditi, e solo allora è emersa la verità. Virginia ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita. I primi due tentativi non sono andati bene, ma al terzo è rimasta incinta. Ancora non ci crediamo, neanche mio padre Lino vuole illudersi perché i rischi sono molti. Per ora è a riposo e aspetta di superare il delicato primo trimestre prima di annunciare a tutti che diventerà mamma mentre io sto per diventare nonna. Tutti noi facciamo gli auguri alla famiglia Banfi e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore. Grazie.